Allora Davide ci rivediamo anche quest'anno molto bene ormai facciamo che è un appuntamento fisso ogni anno ci vediamo al cinecola così facciamo quattro chiacchiere su Disney, Marvel, Star Wars e le cose che ci interessano a noi nerd. Allora prima cosa ti chiedo chiaramente un recap di inizio anno e una previsione del resto dell'anno quindi quali sono i film che sono andati meglio finora se te lo aspettavi e se sono andati oltre le tue aspettative e quali sono invece i film che aspetti di più insomma da qui fino alla fine dell'anno. Ok buongiorno a tutti parlando di quest'anno di com'è andata che dire per noi è un anno fantastico sia se lo consideriamo del primo di gennaio sia come diciamo sempre la nostra stagione che poi comincia dai primi dicembre quindi stiamo parlando comunque di quasi 100 milioni di incasso oppure 90 milioni insomma come la si vuol vedere quindi un anno per noi veramente strepitoso fantastico davvero. Avengers Endgame devo dire oltre le aspettative ci aspettavamo un grandissimo risultato però caspita arrivere comunque quasi a 30 milioni in questo panorama devo dire che insomma è sempre un è sempre un'emozione sempre un ottimo risultato. Aladdin è un altro che mi ha davvero sorpreso anche lì mi aspettavo comunque un bel risultato un ottimo risultato anche perché siamo un paese che lo dicevamo anche forse l'altra volta che come gusto preferisce un po' questo tipo di adattamenti dei classici Disney in live action però wow un anno strepitoso poi tornando indietro Dumbo caspita anche Dumbo Dumbo per me è stata anche lui una grandissima sorpresa tra l'altro Dumbo strepitosa Elisa su Aladdin strepitosa Nomi veramente una economia è stata una per me un'altra grandissima sorpresa. Bellissima sorpresa no? Mamma mia. Io sono un suo grande fan seguivo X Factor. Anche io ho seguito X Factor. Sinceramente non mi aspettavo che così poco dopo ci fosse già una sua una sua una sua esperienza così nel cinema e così bella poi. Anche noi scoperta tra virgolette non dico per caso però attraverso anche noi X Factor quindi siamo sempre alla ricerca un po' anche noi di 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 talenti musicali poi per interpretare i nostri i nostri film per quello che è la parte cantata e la parte musicale e lei devo dire strepitosa è davvero un talento lei è proprio davvero un talento una voce una voce meravigliosa che incanta e dicevo tornando indietro per me un altro film che mi è rimasto nel cuore era Ralph, Ralph Spaccai Internet un altro film che mi è piaciuto un sacco e devo dire quando ho visto la scena delle principesse mi ricordo dal trailer ma ho detto quello ci ha fatto ridere fin della prima volta e ogni volta che l'abbiamo rivisto ogni volta abbiamo riso come la prima volta. Non poteva non andare bene anche Mary Poppins un altro un altro titolo ripeto un po' un po' andando indietro nel tempo e ancora ulteriormente se vado faccio un passettino ancora un po' più indietro se posso lo schiaccianoci schiaccianoci quattro regni ecco quello è un altro un altro titolo che mi ha davvero sorpreso in termini di di aspettativi di risultato anche lì beh ovviamente anche lì ecco parlando sempre di talent musicale abbiamo avuto Bocelli che wow i Bocelli e adesso il Re Leone adesso il Re Leone che vi chiediamo ancora un po' di pazienza super punta per voi soprattutto in Italia come abbiamo appena detto il Re Leone è ancora più di Star Wars e poi a fine anno? se non è guarda il Re Leone beh il Re Leone è ecco forse faccio un paragone azzardato però perdonatemi Star Wars sta Lucas come Re Leone sta Disney nel che dire il classico di animazione del 94 lo dicevo prima un po' a fiore all'occhiello della nostra azienda è stato ancora il classico di animazione che ha incassato quasi un miliardo di dollari di box office al mondo quindi mamma mia due Oscar quanto pagherà secondo te l'uscita estiva se la pagherà se ne sta parlando tanto in questo periodo c'è anche questa roba nuova in Italia molto bella secondo me questo movimento non mi piace il nome però mi piace l'iniziativa moltissimo poteva essere un po' più chiaro il nome mia opinione personale però comunque mi piace molto l'iniziativa e sono uno dei sostenitori bisogna andare al cinema anche d'estate fatto sta che comunque le abitudini italiane sono ancora diverse e ci vorranno tanti anni per cambiarli e voi comunque vi va riconosciuto che siete stati tra i primi a spingere grandi film in questo caso addirittura il più forse il più importante dell'anno esce ad agosto per cui non so cosa ne pensi era meglio aspettare settembre se non ci fosse stato questo movimento sarebbe stato meglio farlo uscire a settembre cosa ne pensi? no secondo me assolutamente no è un titolo ecco un titolo talmente forte che la data di fine agosto era perfetta era perfetta devo dire che poi la data comunque di fine agosto è una data che nonostante tutto nonostante il fatto che sia estivo ed estate è ancora una data che premia tantissimo premia sia il family sia il non family stiamo parlando poi di Re Leone già dai dati che abbiamo di tracking è un film super atteso e come dicevo prima aspettate qualche giorno vi chiedo ancora un po' di pazienza perché annuncieremo delle grandi sorprese anche su Re Leone una l'avete vista oggi con Sheryl Porter però ce ne saranno altre che riguardano la versione italiana del Re Leone riguardano la versione italiana del Re Leone non ci puoi dire altro ovviamente assolutamente no ci mancherebbe ormai mi conoscete poi a fine anno arriva insomma l'evento che più aspettiamo quest'anno veramente il 2019 è stato ne parlavamo prima prima di iniziare l'intervista è stato un anno in cui si stanno chiudendo tante cose si è chiuso il primissimo il primo grande ciclo di Marvel e si chiude soprattutto si chiudono i nove film della saga degli Skywalker quest'anno è l'episodio 9 insomma anche questo inevitabilmente è un evento importantissimo per il mondo nerd e per Disney anche insomma no? per cui ci sono tantissime aspettative assolutamente sì l'abbiamo visto già come dicevamo prima anche con Celebration quindi è stato lì proprio l'annuncio l'annuncio di questo nuovo capitolo con il primo teaser trailer ritorno alla regia JJ Abrams che era già ovviamente il regista del primo quindi è un po' aperto e chiuso questa nuova trilogia anche qua come dico sempre su Lucas non abbiamo nessuna informazione non abbiamo ancora visibilità su quello che ci aspetterà però che dire ricordo solamente come abbiamo ricordato anche oggi in convention i primi due capitoli comunque hanno incassato oltre 40 milioni di euro in Italia quindi sta parlando anche per noi di un fenomeno ecco mi piace anche ricordare sempre che è un fenomeno che abbiamo ricreato e abbiamo rigenerato e gli abbiamo dato una nuova spinta e hai ragione quest'anno sono due no? perché c'è la chiusura proprio della nuova trilogia e poi c'è stata la chiusura di questa nuova fase del mondo Marvel devo dire da questo punto di vista due colossi la coincidenza è secondo me eccezionale anche perché il prossimo anno arriva Disney Plus ti voglio chiedere un'ultima domanda chiaramente qui chiedo una tua opinione so che non puoi ovviamente essere tu direttamente responsabile della scelta ha fatto molto storci del naso a tutti quanti i fan il fatto che Disney Plus arriverà prima in America e poi forse addirittura sei mesi dopo in Europa o perlomeno questo è il primo calendario che hanno annunciato questo presuppone inevitabilmente che tutti i fan italiani a novembre quando uscirà in America usciranno le prime serie o pirateranno o faranno altro per vedere quelle serie tu lo sai Davide speriamo non la prima sai come funziona però se dobbiamo aspettare sei mesi cosa ne pensi? cambierà questa cosa? probabilmente verrà lanciato tutti quanti insieme come speriamo tutti? rimarranno su questo punto? sì devo dire che su questo non ho informazioni quindi purtroppo non ti so rispondere davvero perché non ho alcune informazioni spero e mi auguro che non piratino grazie grazie a te Davide